Il Mediterraneo è diventato sempre più attuale per l'Italia, soprattutto nei rapporti con la UE, la NATO, l'ONU, soprattutto in questi momenti, fondamentale anche per la sicurezza e per la nostra sicurezza italiana. Il Mediterraneo è un luogo di scambio, di incontro, di pace, è uno spazio su cui si affacciano storia, culture, religioni diverse, che è stato sempre un luogo di incontro e dobbiamo preservare questo ambiente come un ambiente di cooperazione e di collaborazione, certamente con uno sguardo ai riverberi della situazione di conflittualità in Ucraina, ai riverberi nel Mediterraneo e per questo dobbiamo mantenere alta l'attenzione per preservare un asset fondamentale per la nostra sicurezza. Da questo punto di vista l'Italia non può che essere un paese impegnato in questa dimensione, in questo lavoro, perché l'Italia è proiettata nel Mediterraneo, la sua storia è nel Mediterraneo e lì dobbiamo svolgere il nostro ruolo. Lei ha fatto riferimento anche alla dimensione underwater, così l'ha chiamata. Che cosa si può fare in termini di sostenibilità e sicurezza? Beh, la dimensione, diciamo, sottomarina è una dimensione sempre più rilevante e fondamentale perché passano dentro quella dimensione infrastrutture strategiche per le nostre società. Penso alle pipeline che ci portano energia, penso ai cavi sottomarini che ci permettono la connettività e queste infrastrutture devono essere oggetto di grande attenzione, di grande lavoro, di grande impegno per preservarne la sicurezza. Lo stiamo facendo con la nostra e con le nostre forze armate, in primis con la Marina Militare Italiana, ma lo stiamo facendo in cooperazione con i paesi con cui collaboriamo e con i quali lavoriamo insieme. È un tema che dovrà sempre di più vedere impegno e attenzione. La linea politica non cambierà? Io credo che l'Italia in questi mesi abbia dimostrato con chiarezza la propria posizione e dentro la crisi più drammatica che le nostre società stanno vivendo, l'aggressione russa all'Ucraina. L'Italia da subito ha sostenuto l'Ucraina con un sostegno ampio in Parlamento. Sono certo, come ho già detto anche al Presidente Zelensky, ma come ho detto anche ai nostri paesi alleati e patano, che l'Italia continuerà a lavorare in questa direzione, nel sostegno all'Ucraina e nella ricerca delle condizioni per una pace giusta ed equa. Bene. Grazie.